Siamo ancora qua, mi pare il respiro sempre buono, di fronte qui due signori e qui c'ho delle scartoffie. Allora, tra le tante cose che ad Arco non sono state fatte e che sono ferme, oltre alla scuola elementare di Varignano, Clero, Casabresciani, eccetera, 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 ce n'è anche un'altra, che è nella chiesa di Arco, perché di Riva, di Nago, di altre zone, probabilmente la chiesa di Arco, forse non so, l'avranno conosciuta in occasione magari di qualche matrimonio, di qualche funerale, eccetera. Però desidero parlarvi di questo organo. Organo della chiesa di Arco. Il primo organo è stato fatto nel 1732 da un certo Bonatti, poi è stato rifatto nel 1898 da un certo Maier. Ha una storia un po' particolare, perché quando è stato rifatto da questo Maier, questo organo ha sempre avuto una storia piuttosto travagliata, perché non è raccordato, perché non so dirvi molto bene, perché non sono assolutamente un tecnico degli organi, ma so che ha avuto problematiche. Poi a un certo momento è arrivato un altro parroco, tra i tanti che sono passati, e Don Amadori si è rivolto all'Arcidiocesi di Trento, Ufficio Musica Sacra. Non sapevo che esistesse l'Ufficio di Musica Sacra. Vedete l'organizzazione, quelle robe lì, praticano a insegnarne. Allora, veniamo un po' al tutto. Allora Don Amadori, insomma, non è stata tenuta in considerazione la cosa. Arrivato il nuovo parroco, ha visto questo organo. Ma perché un parroco può vedere più di quelli che vanno alla messa l'organo? Perché chi va in chiesa l'organo lo ha dietro le spalle, mentre il parroco che recita ce l'ha sempre davanti. E vede, ma quell'organ lì, porca miseria, che noi non metta a posto. Allora, tra le varie preghiere, da un certo momento ho detto, mette a posto quell'organo. Allora, un giorno ho incontrato Don Walter, con cui ogni tanto mi trovo a fare quattro chiacchiere. Non so se piace a una certa parte della popolazione che il Tamanini parla con questo parroco, in modo parlo con il parroco, ben simpatico. E allora abbiamo parlato dell'organo. E lui mi ha sollevato il problema e dice, mendi, tutte le volte che favo messa vedo tutto quell'organo in fondo e che ho in questo organo qui laterale, che insomma non è proprio che sia il massimo. Sarebbe una bella cosa? Metto la posto. Io vado e dico, apre una porta aperta. Perché anch'io molte volte ho pensato, che su quel bellissimo organo chissà perché non lo mettono a posto. Sarebbe una cosa molto bella. E allora viene a far parte delle cose un po' del Tamanini. Mi sono un po' interessato di questa cosa. E il parroco sarebbe intenzionato. Ma è una spesa. Allora qualcuno dirà, ecco, invece che l'Orga mette a posto l'asilo nido. Invece che l'Orga mette a posto quell'altra roba. Ma sono, da quello che ho capito, sono settori anche in provincia separati. Per cui i soldi che vengono destinati per determinate opere storiche non possono essere dirottati su altre opere. Quindi c'è un ufficio, anche in provincia, che si occupa delle cose storiche. Allora Don Walter ha detto, ma Don Walter, ma perché non si rende promotore di questa cosa? Ma esattamente, mi rendo ben promotore? Cioè io mi interesso e credo di avergli dato un po' un suggerimento. e si deve essere, anzi si è interessato della cosa. Naturalmente è una spesa di una certa importanza. Mi piacerebbe una cosa, mi piacerebbe una cosa. Che quelli di Arco prendessero un biglietto semplice e scrivessero al parroco di Arco perché non si mette a posto l'Organo potrei contribuire anche con soli 10 Euro. Credo che non sarebbe una cosa, però potrebbe essere anche perché leggendo Prousto ho visto un pezzo dove dice che ogni uomo è una canna. E Don Walter, dottor Tamarini, l'organo dà questa sensazione che ci siano un insieme di uomini, canne lunghe, canne corte, uomini di un certo spessore, uomini di un altro spessore, però è un insieme di uomini. E dico, ha ragione Don Walter. Lo dice anche Prousto, che ogni uomo è una canna. Allora si potrebbe pensare che mettere a posto quell'organo potrebbe essere un motivo per mettere insieme molti uomini che alle volte la pensano in maniera diversa. Allora alla fine di questa trasmissione ci saranno quelli che diranno Tamarini, guarda, è interessante, si occupa anche dell'organo, bravo, quelli che mi vogliono bene. Pochi saranno gli altri che diranno Allora solitano che funziona più l'organo, adesso si interessa dell'organo dell'accesa. Allora solitano 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 Grazie a tutti.